buonissimo un mondo isolata e cioè è un fottutissimo mondo isoletta dove c'è bala che stai volando non c'è niente intorno a niente ma buono c'è un polipo mi crasciato il gioco bella e mi crascia oh non ci credo quando devo partire mi crascia vabbè è partito adesso e boh siamo su minecraft direi vabbè io me ne vado ciao no vabbè siamo questo ma anche se vissi un sacco di rilas ma come c'è un cristian e non mi no 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 e la canela zucca non fa il bravo vale canela zucca confondre con i cri a me veri su un vero e insomma sono qua su minecraft direi che si vede che tipo si sta tirando le seghe testo che sono tornati invece noi tranquilli dico no scherzo vabbè spiegami perchè uno zombie che non è uscito da non so dove è apparzo tu dimmi da dove è uscito è lo zombie di goku no? fa il teletrasporto ma pollo mi fanno scappare bene vai si comincia bene ciao aspetta dove fai io? ho acceso anche la televisione lanciando le cufe cioè non è possibile cosa? eh 10 certe battute già siamo iniziati da tipo un minuto e già comincia a sparare cassate vabbè insomma andiamo a prendere il legno con poi che inversione si fa? mi sa che lo carichi solo tu sto un mono ok non è ripartito cioè tipo sto facendo 40.000 tagli non so perché perchè c'è tipo la montagna che ci fa come Elvis che ci fa ehi sì c'è c'è una protuberanza lì eh se lo guardiate poi di qua sembra un pollice che ti fa ehi cioè vabbè lo a me sembra un pene è un pene c'è una bipes parolaccia oh c'è un buco qua eh vabbè c'è chi c'è chi c'è gli soliti bug di Minecraft wow è un bonsai non è un albero un bonsai porca troia mi sa che qualcuno qui ha cercato di fare spiderman oh qua sotto c'è una montagna lascia la giungla cioè abbiamo come perchè non ci semi da inquini quei semi de eh se eh io voglio come scena no non voglio farmi ma vabbè a te ti fai ma aia ho perso quattro cuori allora qua guarda c'è già il destino ci porta a creare una casa qua perchè ci vuole bene ma non abbiamo legno però non vedo niente quindi devo mettere la luce ad aprire legno i tipi che vedo l'altro giocatore 6 no aerobrine erobrine eh infatti ci sono le zucca eh invece vedi è un segno aspetta dai 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 spacca 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 ma ho fatto io ho due pezzi di legno una piuma e un pollo morto perchè di due morti non diventare un pollo di gomma ah ahahah oh non sono stato io hai la zucca in testa non potevi vedere mi hai rubato madonna mi ruba legno guardalo che schifo ma perchè ora il legno fa così guardalo se hai tipo hai mezzogli si gira si gira storto bah bah sei emozionato non lo sapevi no eh hai visto scopri cose nuove dove c'è da un'altra devo rispaccarlo tutta l'esercizio se non faccio un articolo secco chi oddio vera vedere no minchia staccato a legno cos'è questa cosa per con il nostro appunto il nome non mi chiede dai 10 aspetta la donna se zucca dirti è stata che la raccoglie il dirth la dirth è la terra guarda qua c'è tutto geometrico si si ma questo mondo minchia poi là tutto ne è tutto baggato si vabbè quella è normale aggiungono i cazzo di libri schifoni rumore di aerobrine no vabbè qui c'è qualcosa sotto eh no ti giuro c'è te dai vedere il video hai fatto tu il server eh ecco un'altra cosa ad un no 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 vabbè di giro mi sono venuti prima cristo stai cercando di suicidarti a prima puntata si si tra l'altro non abbiamo ancora fatto niente facciamo finta di giocare a minecraft infatti stiamo facendo finta di giocare a minecraft legno il legno del professor O cioè lo abbiamo sempre fatto finta di giocare a minecraft in realtà facciamo uno dei pro play ebbè dei pro su minecraft no è troppo buio non ci entro dentro lì ma poi quel bug ma che bug è ma cos'è boh secondo me è tipo boh no ci vado ma pare una faccia tutto schermo aerobrine nudo ma in realtà non è un bug che minecraft è la luna no ce la faccio ma madonna cosa cazzo sta di scena vabbè insomma prendiamo il legno perché a me tipo non lo so fraps oddio mi viene una crisi oddio fe 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 perché tipo mi rampeggia il fov come se stessi modificando la nebbia perché noi giustamente stiamo stiamo cazzeggiando poi la notte ci lamentiamo che tipo ci fanno saltare in aria no tipo no no è bruttissimo cioè no è epilettico è epilettico devo mettere l'avviso prima di iniziale attenzione no 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 ho visto alla beliba che infla oh mio dio ma che sei questo mondo non è un mondo questo c'è nessuno adesso come faccio a trovare c'è nessuno scusi devo trovare c'è nessuno vabbè so dovessi si si ma che cazzo è ma è un mondo bucato no è un mondo strano più che altro tutto è il mondo di ero il mondo di ero il mondo di ero anche fraps è strano vabbè fraps è sempre stato strano oppa distante cora di me è tutto buio ma qua c'è uno zombie oh oddio si apparsa luce improvviso ho fatto prendere un colpo ma vabbè direi let's play finisce qui ciao ciao tutti ragazzi ne ho fatto brutto è stato brutto è stata una brutta esperienza sì perché c'è bala che si buttano i buchi e ma non è che mi sono buttato c'era un buco ci sono cazzo madonna ste crisi vabbè lo chiamerò tipo ah si crede merda minecraft epilessia parte 1 ma che c'è non lo so no poi vedrai veramente ma la carne marcia devo tornare a usare di xd eh visto io ero sempre infatti uso di xd vado a eh ma mi da problemi con sony vegas non è vero cosa ne sai e ti dico che non è vero ma poi perché i semi di cacao sono c'è sembra lampade ma non sono lampade non posso essere lampade tu io accanto a me ho una lampada di semi di cacao si se la rompi i droppi semi mi hai rubato il legno non ti fai schifo no sto facendo tale va bene io vado di qua a me non mi piace il colore di questo legno rosso tipo a me non c'è stata epilessia che mi sta bene ma tommenze che fa scello tipo o la cassa rossa non mi piaceva il colore c'è no tu vedi vedi il video vedi il mondo che lampeggia aspetta solo per il logo e fu così che attraverso il portico la proposta stava davanti così senti dietro le quinte ora come me ma hai sbagliato hai detto che ma mi è crashato minecraft ma non è possibile ma perché c'è un altro bada me l'ho sdoppiato tanana 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 il primo episodio lo carichi tu io non voglio non voglio più giocare in questo mondo ti giuro arrivo l'oggi cioè nel registro metà con fraps e metà con d metà perchè hanno fatto l'accetta spiega con metà si sta facendo buio veloce veloce arrivo io a salvare mi fai piacere poi sai che poi cosa succede boom 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 chiudo con la merda di fraps e mi sei chiuso anche mai ma siamo scherzando ma donna ragazzi non ci riesco a fare un bastoncino ragazza aia ok mezzo let's play con strumento arri da quanto si è registrato altro 1 ora e mezza una cosa l'ora e mezzo saranno 3 minuti ci voglio vedere poi quando avrai i file di 50.000 gb eh vabbè tanto un harddisco che sto registrando con dix io sono da solo dove andassi sono accanto a te bar sto prendendo in mano mi fai paura si sto facendo shining ma lei no ho sbagliato in mira ma linda cosa hai detto devo dire balino mano ti aiuto ti do un po' di semica wow così potrò diventare obeso vai se vuoi ti taglio le armi grazie si scambiare ho giardiniere personale mentre tagliare gli alberi ah beh vuoi le forbici dalla puntata vabbè giovanni cioè abbiamo passato un giorno a saltellare in giro a cadere in buchi e io te l'ho detto ho detto 5 minuti fa noi cazzeggiamo tutto il tempo poi la notte ci lamentiamo infatti cosa stiamo facendo lamentiamo ci stiamo lamentando ovvio è colpa tua scusa è ovvio è più che ovvio è colpa mia come dici regista fraps buco no no ancora ci ricade ora si vede in chat ehm yaqdbv hit the ground hit la hit dell'estate si si yaqdbv la hit dell'estate ma che ha dell'inverno 2000 13 che poi inverno si è inverno si è inverno si è inverno cioè no non nevica più però ma non ha mai nevicate quello è il bello ma i suoni si che i suoni no cosa i suoni non lo so vabbè la lasciamo perdere sei sicuro che hai messi ah si c'era lo zone ovvio come si mostri sto prendendo anche la pietra perchè ci facciamo la casa in pietra ma io direi che ci facciamo un buco nella montagna non la casa in pietra come si ho visto spawnare qualcuno che non mi piace un coso verde vieni vieni ad ucciderlo canne da zucchero a me mi serve da mangiare a me serve tutto ah non si dice a me mi giusto scusa 2 creeper 1 per 1 3 creeper ok vabbè ci stanno invadendo vieni ma che cazzo è felice di vedermi stavo facendo vieni dai dai fatti sotto fatti sotto testa di cazzo vieni vieni dai anche tu dai dai i creeper a mio favore no non scoppiare non scoppiare non scoppiare no ora mi spiegate quello perchè c'è tipo in aria c'è della sabbia con un po' di muschio intorno si lo vissa non ha senso tutto questo non ha senso lì c'è un'isoletta un'isoletta vabbè un'astronave strana vabbè hai visto l'albero che è cresciuto storto qua a parte che sono blocchi messi a caso la bala dame da mangiare oppure oppure sacrificati e mangia il tuo corpo come fece gesù io posso non o c'è esperienza c'è ci sono gli alberi cresciuti male ma dove dove li vedi gli alberi che schifo brutti guarda dei brutti perché siete nardi ritardati allora sa me mi esplode o mi colpiscono un pollo mi mughi addosso di muoio c'è un 2 uova un po' l'ha fatto vergognati schifo un po' l'occhio cosiddetto mi mughi si mi mughi oh i po' dei polli servono a qualcosa sono poi le uova non si possono aggiungere no devi tirare alla gente si ma non ha senso ho sentito il ragno dimmi che non è vero dimmi che ho sentito male che oh mio dio ho spawnato un pollino cosa un pollino come hai fatto hai tirato l'uovo si perchè mi ha fatto paura vai ma cosa ho fatto il nostro pollino domestico esplodo è imploso aspetta faccio un po' di parkour parkour perchè parkour parkour perchè ora bisogna cercare la casa con parkour parkour time attenzione noi noi che la facciamo speriamo di trovarne una già fatta ovvio la troveremo anche aspetta però non mi torno così se arriva un enderman dirmelo perchè ho la zucca io posso tornare casa casa di aerobrine madonna come cazzo si chiede del fratello di nocci non entrare casa nostra c'è un pollo vabbè con le norme c'è un pietro io ho un percorso di alberi ma la stessa media si io mi filo di te e beh allora finiremo male allora aspetta ma è tutta giungla sta mappa non fatemi c'è visto ho un'avventura nella giungla qui tocca a fare un tuff tarzan tata tata oddio ho tre cuori ho rischiato ci sono tre quali minecraft no no ora fa vai salta 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 puoi farcela vai bala grande mamma mia che sto morendo abbiamo finito il mondo e mi cascia mai no non cascia mai gratt ma ti tiro un uomo ti tiro ricrasciato palombella te lo tiro a palombella ma che cazzo perchè dc madonna o minecraft non posso registrare mi dispiace minecraft guarda mi fa tre fps tipo ma cosa ok vada tipo sta affogando si e noi tipo lo guardiamo spesso perchè quando cazzo registro ah mi era andato in ms server ma io non c'entro niente o ho tipo fatto allora sì che ho fatto metà video con fraps metà con dxtory mi è crashato tipo 40 volte con tutte d'ora sai che tipo nella palude ci sono le streghe ci sono anche le mucche ah no quali sono le mucche streghe ma quella ancora non l'hanno aggiunto non ci sono ancora fumati abbastanza crack per creare mucche beh ecco inizia a rampeggiare madonna ma cosa ho fatto ma perchè non posso registrare oh merda bala no no non è possibile vai via no non puoi tuttora nel buco buttalo nel buco ci sta provando mi esplosi in faccia ehm meglio te che me ma vaffanculo c'è un nozomi che sta facendo il bagnetto oh cristo ehm anche tu vaffanculo ehm ehm scensurred si va a me non è scensurred scensurred è una lingua arcana è nuovo pokemon ci siamo adesso come ti trovo io e me crashato ho trovato un muro rumori di aerobrinn rumori di aerobrinn rumori di aerobrinn avventurando in questa palude c'è palude c'è un pipistrello a testa in giù nell'acqua ok c'è uno scheletto che muota nella terra io ne sto vedendo in tutto i colori c'è il pipistrello a testa giù nell'acqua lo zombie lo zombie c'è lo zombie con i mani semi va bene stiamo che nuota nuota nella terra macchic no non vuota la gente recente non vuota su micrassi non puoi notare ti ricordi ma galleggia in uno zombie che mi molesta con dei semini ma non sto per morire no bala dai dove sei dammi dell'affetto dammi qualcosa non lo so ma il posto del trasportare non c'è il comando ehm no ah beh bene perchè ho allaccato con lo zoo ah già siamo in multiplayer non ero abituato a giocare in multiplayer io scapo perché mi fanno il culo no non è possibile vai via no eh beh bravi era tornato a responare a vedere perché ero circondata cioè dietro c'è uno zombie un creeper davanti c'è uno libero ho provato a girare invece oddio vedo che il tubo c'è lo scheletro vale insomma in tutto questo casino noi non abbiamo fatto una casa si, abbiamo registrato tipo mezz'ora aspetta ti dico quanto più meno sì perché lui ha registrato tutta cazzo tipo 20 no 20 minuti tipo mischi rumore il rumore delle ragni no cioè brutto vabbè smetto di registrare perché io muoio registrare ma aiuto ci stuprano ma che cazzo è sono un arachnofondo ah 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 città 60 qui balamore qui balamore attenzione è scomento sul ragno e scommetto sul ragno autodal dada si si ho vinto siamo altissime ho vinto 20 10 euro 10 euro da tutti i miei iscritti cambiare o di chi sta morendo abbiamo appena visto muoio dietro chi ma la gara non è stato a picchiarti ma vaffanculo vuol ucciderti si vedi x attirato tipo che è un modo un modo che di ragno o o o occhi di ragno no e io faccio disconnetti di città il pollino il pollo no 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 come ti permetti un pollo con la testa gigante vai dalla mammina o che che scena affettuosa guardati e mi trasforma era troppo affettuosa se cari a td ok che che bella famiglia che siete no no dove vai pollino o bravo non registrano mai no questa è per pedo pornografia se stupendo un pollo no stanno stupendo un po pollino vergogna ti vai via chi ti vuole ma come fanno una scuola vada un po' guardare cosa cosa il pollino l'ho ucciso hai ucciso il pollino e beh ha la testa gigante mi incastro nell'erma l'ho ucciso il video no non può piacere un video del video iscrivetevi da tutto il canale dal mio da di bar di gemma del sud no no lei molto più brava di noi amore vabbè con questi salutiamo ricordate di lasciare un commento per il pollino si ma non ho deciso di 2.1 esploso da solo su un po' il pezzo di merda il nome esploso autobus autocombustione di pollo ecco e insomma o queste sono chiama il prossimo video mettiamo facciamo la casa moriamo andiamo nelle caverne se ammazziamo creeper ammazziamo l'ender dragon finisce le let's play e si va beh tutto il secondo episodio non si sa come tutto il suo sito durerà sei ore su un episodio ovviamente scherziamo faremo la casa e andremo nel cuore si si tv e niente noi ci facciamo la zuppa di di zucca intanto se vale evita di sporcare con i suoi capelli no sono pelato sono una parrucca io sono a eserlo i capelli perché io ce li ho capi ma oh io sono un fuoco la finiamo sto video perchè ne è tre ore che dico ciao a tutti e non finiamo mai stiamo registrano tre minuti al canale ok con questo è stato chiamo il suo voto domo zucca nel momento di mangiarsi l'occhio di raggio se benvenuto no che davvero e ragazzo questo è stato chiamo spazio l'occhio di bbv l'occhio di bbv la musica non c'entra niente e l'occhio di pernata seicolo 2 tutti da tutti insomma tutti ciao mamma saluta mamma saluta non ha salutato ciao ma fa culo la trottina non è il bis e disse il nuovo gatto perchè non lo so e ragazzi con questo vi salutiamo buonanotte ciao ciao vi voglio bene a tutti sono le tre del pomeriggio bala non vi vuole bene io si ciao musica